Eccomi di nuovo con voi appassionati di Beast Tennis per presentarvi un altro prodotto del marchio Turquoise. Carbon K è la nuova racchetta studiata per i giocatori professionisti che esigono un attrezzo di gioco potente e preciso. Questa racchetta è dotata di un guscio mediamente rigido realizzato in Kevlar di prima qualità che permette di ottenere un piatto della racchetta più elastico rispetto a Carbonio. Carbon K con lo speciale guscio in Kevlar si avvicina molto alle caratteristiche del Carbonio pur conservando maggiore velocità e all'attività di quest'ultimo. Carbon K è una racchetta per chi predilige un tipo di gioco di livello decisamente veloce ed agonistico. Carbon K si distingue per una maggiore elasticità interna, il grado di rendere i colpi più potenti e risolutivi e al contempo smorzare maggiormente le vibrazioni dovute all'impatto sul piatto della racchetta. Come per altri modelli del marchio Turquoise, anche Carbon K presenta l'importante sistema di assorbimento delle vibrazioni. Questo sistema rende l'attrezzo stabile e preciso anche nei colpi decentrati, senza infliggere ulteriori vibrazioni a braccio dell'atleta. Con Carbon K dunque potenza e controllo assicurati.